Intro Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video Player review quest'oggi di Narsing If Il giocatore se andiamo a vedere le stilistiche in game Presenta 96 di accelerazione 86 di agilità 81 di equilibrio 95 di sprint di scatto 64 di forza fisica Poi 72 di posizionamento Controllo palla 78 Cross 84 Tiri a giro 75 80 di dribbling 74 di precisione nei tiri Il passaggio lungo a 69 A 78 il passaggio corto 73 il tiro di potenza E al volo 67 Tira al volo 67 Allora parliamo di questo giocatore E... Quindi una cosa che sicuramente piace di questo giocatore qui è la velocità Ricordo che queste qui che ho appena detto sono le stilistiche in game Lui presenta 94 di velocità 67 di tiro 75 di passaggio 78 di dribbling 43 di difesa E 55 di colpi di resta Intanto comunque dico come l'ho impiegato diciamo così nel campo L'ho usato come seconda punta destra Come ATD In due squadre Una con Giovedic e If Di cui vi porto la vera Dicevo è molto veloce Che non ha soltanto quel 94 di velocità nella carta Ma poi 96 di accelerazione 95 di scatto E' un giocatore molto veloce Mi è piaciuto tanto E devo dire una cosa che nella carta non si vede Non sembra appunto Il tiro Perché ha un tiro pazzesco Pazzesco veramente come direbbe Flax Pazzesco veramente Perché ha 67 di tiro Ma dimostra un 80 veramente di tiro E' assurdo Poi è un giocatore che costa davvero poco Io l'ho comprato sui 22.000 credili Ma adesso Costa sui 12.000 credili Quindi è un giocatore che non costa niente E che vale la pena provare E poi se viriamo nella carta C'ha 75 di passaggio Il passaggio E' davvero grandioso Fa dei cross stupendi Davvero ottimo come giocatore Per fare appunto anche i cross Io lo so appunto come vi ho detto Come ATD E ho fatto parecchi cross E tanti gol di destra Poi le varie attaccanti Ha 4 stelle Mossa abilità E 3 stelle Piede rebole Queste 3 stelle Piede rebole Diciamo sono un po' un contro Perché appunto Non è Cioè appunto Se è sulla fascia Opposta Non si può tirare al giro Però Lui E' di piede destro E quindi Appunto Se avrebbe voluto Come pietre preferito Il sinistro Allora Non ci sarebbero Stati problemi Però Avendo il piede destro Come pietre preferito E 3 stelle Di piede rebole Non potrebbe appunto Tirare a giro Da fori aria O dal limite E di conseguenza Questo è Una brutta becca Mentre sono Un grandissimo pro Le stelle skill Perché 4 stelle skill Per un giocatore Che ha 94 di velocità Rendono qualcosa Veramente di unico Quindi Per questo Mi è piaciuto Davvero tanto Comunque Andiamo quindi A vedere questi pro E questi contro Che sono La velocità Il tiro Il prezzo Sicuramente Così come i passaggi Mentre Contro Contro Ah e ricordo Anche i pro Ci sono le 4 stelle skill Mentre contro Invece Le 3 stelle Piede rebole E La nazionale Il campionato Perché giochi In le redivise E' olandese Ed è molto difficile Da ibridare Le ibride Come al solito Ve le porto nel canale Appunto con Questi giocatori Della quale faccio Il breve review Però Non è facile appunto Ibridarlo Viene parecchio Anzi difficile Comunque Farevi un salto Nel canale E vedrete Come l'ho cercato Di sistemare Comunque ragazzi Per questo Player Review E' tutto Spero che vi sia piaciuta E vi sia stare Di vostro credimento Mettete un like Se appunto Vi è piaciuta Che dire ragazzi Da Bla Forever Al prossimo video Bella E vi sia piaciuta